Il primo motivo è che tantissime persone ogni giorno trascorrono la pausa pranzo fuori casa sia per motivi di studio che per motivi di lavoro e chiaramente tra tutte queste persone ci sono anche molti lettori del giornale del cibo per cui sapevamo di venire incontro ad un'esigenza reale e concreta. Il secondo motivo è che la tematica della buona pausa pranzo tocca degli aspetti che per noi come testata sono molto cari che ci riguardano da vicino perché sono poi degli aspetti che trattiamo quotidianamente nelle nostre rubriche per esempio abbiamo parlato sicuramente nel corso della campagna di sane abitudini alimentari che sono un aspetto fondamentale proprio della tematica buona pausa pranzo e sono anche degli aspetti di cui ci occupiamo nella rubrica mangiare sano in cui pubblichiamo con molta frequenza coinvolgendo esperti di nutrizione. Un altro aspetto fondamentale della tematica buona pausa pranzo è quello della convivialità chiaramente essendo la nostra una testata di cultura alimentare per noi la tavola è importante è importante non solo quello che mangiamo e quindi prestare attenzione alle caratteristiche nutrizionali dei piatti ma è importante anche il contesto, è importante ricevere piacere dall'atto del mangiare e condividere questo atto con altre persone. Siamo gli unici al mondo che parliamo di cibo durante il cibo cioè mangio risotto col fungo e parlo dell'aragosta che ho mangiato in Sardegna Vale a maggior ragione per la redazione del giornale del cibo noi proprio non si scappa, non riusciamo mai ad allontanarci da quel confine e quindi appunto dal momento che il rito della tavola sia per noi ma anche per i nostri lettori ne abbiamo avuto la prova nel corso della campagna è così importante secondo noi è importante che venga rispettato anche quando avviene al di fuori delle mura domestiche quindi in pausa pranzo è così importante che venga rispettato anche quando avviene al di fuori delle mura